difficili da digerire, dopo lo svantaggio non ci hanno creduto più e non sono riusciti a recuperare ci resta solo il tempo per ringraziare i telespettatori che sono stati con noi grazie Luca per il tuo prezioso contributo grazie a te Fabio grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te